Adesso andiamo ad Alcamo dove si è aperto il festival del blues e organizzato dal Brass Group, in servizio di Giovanna Cucetto. Non solo blues, spazio anche per la Black Music, il Jazz, il Soul e il Summertime Blues Festival di Alcamo, 19esima edizione organizzata dal Brass Group, appuntamento dell'estate alcamese e non solo. L'esperienza degli Stati Uniti è un'esperienza formativa al 100%, impari a essere umile, a stare con i piedi per terra, a capire che non ci sei solo tu nell'universo, però ad avere grande fiducia in te stesso. Con lei il Soul Caravan, la chitarra Massimiliano Cusumano, Giuseppe Filippi al basso, Francesco Passananti alla batteria, stasera alle 21.15 si replica appuntamento con Glenda's Band.